Il seguente video è stato caricato su YouTube da Dog Vlogs che svolge diverse indagini in luoghi abbandonati e in questa occasione ha deciso di entrare in un ospedale che si dice si è infestato. A tarda notte e pochi minuti dopo essere entrato ha cominciato a notare qualcosa di strano. I'll tell you guys, I don't really like doing these solo investigations, but when it needs to be done, it needs to be done. This is the Gibson ring. This is, whoa. It feels like Resident Evil over here. I keep feeling like somebody's behind me. What the f*** was that? Hello? Puoi sentire degli strani suoni e anche il rumore di quella che sembra essere una porta che si chiude e attira l'attenzione dell'investigatore. Ma la cosa più agghiacciante è una voce che sembra sussurrare chi c'è. Anche se in quel momento non si è reso conto di ciò che aveva catturato, qualche attimo dopo qualcosa ha attirato nuovamente la sua attenzione. Si sente chiaramente qualcuno che tossisce vicino all'investigatore, come se provenisse da una stanza dell'ospedale. Tuttavia non c'era nessuno. Poi si ritrova a camminare per uno dei corridoi e questo è quello che è successo. No. There's no f***ing way. You feel me? Something just touched my f***ing arm. I've got the worst cold chills right now. F*** is popping off in this hospital right now. I don't know guys. I want to keep going but I am so scared right now. So, off camera guys, this fountain was going off. As you guys can tell, this only works by touch. So, I don't know how that thing was going off. If anybody's here and you'd like to communicate with me, push those two little buttons right there and you'll make the water go off. You can use the water going on as a yes and keep it off for a no. Do you want to talk with me? What? Seriously? Ok, come down, come down. He's got cold chills. Sembra che la presenza in ospedale abbia continuato ad interagire sempre di più. Le prove agghiaccianti che ha raccolto confermano solo che in questo ospedale c'è una forte attività paranormale. Tuttavia decide di continuare a provare a comunicare con qualunque cosa ci sia. Evidentemente, c'è qualcosa che risponda alle sue domande e nonostante quanto accaduto decide di avvicinarsi con il misuratore di campi magnetici. Why is that? Oh, whoa! Are you kidding me? I'm getting so cold right now. If you're here and like to... Oh my god. Nel video che stai per vedere una giovane donna di nome Leona stava pulendo la stanza di sua figlia quando è accaduto qualcosa di spiegabile. Is that you all in a tizzi? What happened, sir? Can you do it again? Oh! Okay. Wow! Oh, we're reversing too. Wow! You made sure to go past the cat in reverse. Dang! Dang! Oh, we're still going? if I put it there. You don't like that, huh? Because the cat's in your way? Uh-huh. Oh, you go push it out of the way? Are you going to push it out of the way? Go ahead. Go ahead, push it. You push it out of the way? Oh, my God! You freaking did that shit! Oh, my God! That was crazy, bro! Oh, my God! Again? You're going to push the kitty cat out of the way? You need to... Are you going to push it out of the way again? You're moving the cat out of the way by moving the cat? Oh! Oh, my God! You're so smart! Which one are you going to move? Are you going to move? Are you going to push it out of the way again with the car? Or are you going to move the cat? Oh, my God! Look at you! You moved it back! Oh, my God! Oh, my God! You're so smart! Are you going to move it? Are you going to push it out of the way? What are you going to do? Are you going to move the cat out of the way by moving the whole cat? or are you going to push it out of the way? Oh! You might have to... Oh, my God! You smart person, you! Stranamente, entrambi gli oggetti hanno cominciato a muoversi da soli e non erano alimentati da batterie e il loro scopo era solo decorativo. La donna, ancora oggi, non ha capito quello che è successo. La seguente clip è stata registrata mentre si stava avvicinando la sera e la donna che vedi nell'immagine stava preparando la cena per l'arrivo del suo fidanzato quando improvvisamente è accaduto questo. making some chorizo for the hubby he gotta make some extra this morning he said he's gonna bring over his friend babe, are you home? The door's still locked the door's not even open okay, anyways I don't know what that was I'm hearing things going crazy almost done chopping up these potatoes la donna sente la voce del suo ragazzo e una serie di passi strani considerando che la porta era ancora chiusa a chiave ha deciso anche di chiamarlo al telefono per vedere se otteneva una risposta ma l'uomo gli ha detto che era ancora al lavoro e che sarebbe partito per tornare a casa tra 20 minuti il giorno dopo la donna ha deciso di lasciarsi l'evento alle spalle e comportarsi come se nulla fosse accaduto alla stessa ora del giorno prima mentre stava preparando nuovamente la cena l'entità ha fatto una seconda apparizione in qualche modo la porta dell'armadietto si è aperta da sola senza che ci fosse nessuno lì vicino tu a cosa credi l'evento la prima